Pene alleggerite in appello all'Aquila per sei imputati nel processo Black Axe. Si tratta di sei cittadini nigeriani che per il giudizio in primo grado avevano scelto il rito alternativo dell'abbreviato. In primo grado i sei erano stati condannati con l'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso. Le difese avevano presentato una impugnazione nei confronti della sentenza. I giudici di secondo grado dopo l'udienza di discussione con le requisitorie delle difese hanno riqualificato il reato a carico dei sei imputati da associazione a delinquere di stampo mafioso ad associazione a delinquere. Una derubricazione che ha portato a una sensibile riduzione delle pene detentive che erano state combinate ai sei imputati dal giudice di primo grado. Le motivazioni della sentenza in Corte d'Appello saranno depositate il prossimo 6 di maggio.